Sarà derby italiano nel round of 16 di Basketball Champions League. L'Umana Venezia ribalta solo nei minuti finali, il meno 7 dell'andata vince il ritorno al Taliercio con il risultato di 70-61 contro il Bentespils e raggiunge la Siliga Savellino negli ottavi della competizione europea FIBA. Aggregato di più 2, dal 74-67 dell'andata, la Reier rischia ma produce quanto correva per accedere al turno successivo in cui era già collocata la scandone. Al Taliercio il primo marzo, il giorno 8 al Pala del Mauro, le due gare di mercoledì andata e ritorno con risultato aggregato a determinare sugli 80 minuti tra casa e trasferta la squadra che avrà accesso ai quarti di finale. Per completare il quadro degli ottavi ecco il pass per le due di Salonicco. Laris controlla il divario su Strasburgo e affronterà la Svelvigli Urban. Il Pauk piazza la sorpresa del playoff ribaltando la sconfitta casalinga con il più 4 piazzato all'ala pionir di Belgrado contro il Partizan. Il team ellenico sfiderà Tenerife, Superstite con Avellino del Girone D. Il Ludwigsburg sbriga la pratica Maccabi-Richon e sfiderà il Neptunas-Claipeda. Il Tris di Greche è completato dall'EK-Atene, dominante sullo Juventus-Utena per incrociarsi con il Monaco. Sassa ritorna dalla Repubblica cieca con un passo ottavi strappato all'ultimo minuto. Sotto anche di 31 con il Nimburg, la Dinamo limita i danni ed esce vincente da 4 gare in 5 giorni. Per il Banco ci sarà il Le Mans. Oldenburg controlla Saratov e sfiderà il Bambit con un derby turco agli ottavi tra Besiktas e Pinar Karshaka. Il team di Smirne ha regolato senza problemi Francoforte. Ecco le migliori sedici di una competizione europea, ormai dal grande fascino.